Quanto è grande la passione per il giardinaggio? Tantissimo! E quanto sono grandi i giardini oggi? Le tendenze dell'abitare contemporaneo fanno sì che la maggior parte dei giardini siano di dimensioni contenute. Ecco perché Clubber ha creato una nuova soluzione su misura per gestire l'irrigazione dei giardini oggi più diffusi. Idro 4. L'irrigazione su misura. Idro 4 integra in un unico pozzetto un programmatore elettronico a batterie e 4 elettrovalvole. Tutto pronto per una facile e rapida installazione fai da te. Grazie alle misure compatte Idro 4 si posiziona facilmente nel terreno senza collegamenti elettrici. Idro 4 garantisce il massimo della versatilità. Infatti è possibile collegare e programmare fino a 4 linee di irrigazione a goccia, micro irrigazione o interrata per tutte le esigenze anche con gli irrigatori a basso consumo colibri system. Idro 4 è la soluzione ideale per il fai da te che permette di realizzare facilmente un impianto di irrigazione interrata senza scavi profondi. Il collegamento del tubo collettore è rapido e a perfetta tenuta d'acqua con i raccordi block system per il tubo da mezzo pollice oppure i raccordi a compressione per il tubo da 20 mm. Irrigatori a turbina, pop up, colibri o gocciolatori. Idro 4 gestisce fino a 4 linee indipendenti per ogni necessità. Ad esempio si possono facilmente realizzare una o più linee di micro irrigazione interrata colibri system, l'ideale per un piccolo giardino. Basta tracciare le linee di irrigazione con dei paletti e una cordicella ed eseguire un semplice solco con la pala senza rimuovere la terra né danneggiare il prato. Questa facile operazione è sufficiente per creare lo spazio in cui inserire il tubo flessibile da mezzo pollice con i micro irrigatori colibri system. I micro irrigatori colibri system garantiscono un'irrigazione uniforme e calibrata anche con basse pressioni d'acqua. L'impianto si realizza facilmente in poco tempo e senza attrezzi particolari. Bastano due dita per regolare la lunghezza del getto e ottenere un'irrigazione perfettamente mirata senza sprechi d'acqua preziosa. Per i giardini più grandi si possono usare un tubo da 20 mm, degli irrigatori a turbina a media gittata e degli irrigatori pop-up clubber a seconda della portata d'acqua e delle aree da irrigare, sempre con la massima facilità di installazione. Con i raccordi a compressione da 20 mm, il collegamento del tubo collettore è rapido e a perfetta tenuta d'acqua. Robusto e compatto, IDRO4 è facilmente accessibile per le operazioni di programmazione e manutenzione. Oltre alle elettrovalvole, il pozzetto contiene un programmatore elettronico a batteria per una facile e versatile programmazione, con soli tre tasti e un grande display. IDRO4 è perfettamente stagno e con certificazione IP68, la massima protezione contro l'acqua, l'umidità e le polveri. Comodità, uniformità, risparmio d'acqua. Con IDRO4 i vantaggi dell'irrigazione interrata sono alla portata di tutti i giardini più diffusi. Il programmatore IDRO4 è inoltre già predisposto per il collegamento senza fili in radiofrequenza con il sensore di pioggia RainSensor RF, che interrompe il programma di irrigazione quando piove e lo riprende automaticamente quando torna al bel tempo. IDRO4 è la soluzione semplice, compatta e integrata per realizzare qualsiasi impianto di irrigazione in tutti i giardini di dimensioni piccole e medie. E non solo. Perché con IDRO4, scegliendo tra irrigatori colibri, pop-up o turbine di media gittata, si possono coprire aree fino a 700 metri quadri. Giardino da 450 metri quadri. IDRO4. 100 metri di tubo da 20 mm. 14 microirrigatori colibri da 180 gradi. 7 microirrigatori colibri da 360 gradi. giardino da 700 metri quadri. IDRO4. 100 metri di tubo da 20 mm. 13 irrigatori a turbina di media gittata. IDRO4. Programmazione semplice, quattro linee di irrigazione, funzionamento a batteria senza collegamenti elettrici, perfettamente stagno con protezione IP68. IDRO4. Un'altra idea innovativa club. I maestri dell'acqua.